A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai Io direi che cominciare con un Oh my god, Rose is War 4 No No, eh? Oh my god, Rose is War 4 Abbiamo 6 minuti di registrazione, 5, dobbiamo cominciare Ho, ho, ho Merry Christmas, everyone Kenobi Kenobi Questa era una battuta preparata pessima No, no Everyone Kenobi Comunque No, no, no Adesso il camper si taglia le vene con un bel coltello Tu, che ci guardi su YouTube Passa su Facebook O io Ammazzo Sponkiller Per piacere no, passa su Facebook Se no mi ammazza Perché io, in live per voi Prendo il mio braccio Prendo un coltello Oh my god Allora, questo si è un doppio sciame mio Lui ha un bel coltello È di plastica Sai quei coltelli per fare i fighetti L'avevo comando per Halloween di due anni fa Per fare l'accoltellatore E per poco non mi arrestavo No, no, non è vero Buon Natale Perché è il 25 dicembre E beh, sì In realtà non è il 25 dicembre oggi Ma lo caricheremo il 25 dicembre Quindi buon Natale Non stare zitto Non dobbiamo rivelare i nostri Ok Ehm La partita è un doppio sciame Ben due E non Dai, dai Doppio sciame a Natale Cosa vuolete di più? È il massimo che siamo riusciti a fare Cioè, pensate che nella stanza di là Gli hai il vostro nonno Che Compare Ogni Che cazzo stai dicendo? Lascia perdere No Cosa c'entra il vostro nonno nella stanza di là? Lo so, non lo vedi Fai da più sciame Eh, beh, no Comunque la partita comincia da metà partita Da, da, da Oggi se no non furbo nei commenti No, eh, ma il mio nonno è morto Ecco Vabbè, lascia perdere È morto La partita comincia da metà Vi voglio spiegare Perché Perché Ho scritto il tasto del registro Un po' più tardi Perché dicevo Tanto è un gameplay di merda Io Avevo chiamato Giacobbo Secondo me c'entravano gli alieni Ho tirato a 199 punti di video con la nuova e periodico, eh Non dobbiamo spiegare Beh, comunque Il mondo non è finito È notale Il 21 dicembre L'abbiamo passato in Colui Sì Però ti fa vedere Raccontateci cosa è stato il vostro 21 dicembre Io Tutti erano scrittori Sono dato abbriacarmi A bere A fare i festori con gli zii Sì, come domani Noi non sapremo ancora cosa faremo il 21 dicembre E cascano i miti e tutto Cascano i miti Cioè, la gente pensa, no? Che tutti i commenteri si facciano lo stesso giorno Sì Uè, bomberissimi, buon Natale Spiri che fai i commenteri col mio cappello di Babbo Natale Perché se no non sembra un'atmosfera natalizia Vai, il puffo Puffo Senti qua Che, beh, scusami Mi hai fatto fare il musulmano che consegna il pacco bomba Eh, il pacco bomba Con l'algato Mi hai fatto fare Babbo Natale Certo, fai tutto quello che vuoi, tanto Sei tu che sei ridicolo Mica io Voglio tanti mi piace Ok Perché se no Io ammazzo SpawnKiller E questo Noi non lo vogliamo Tanti mi piace Io ammazzo SpawnKiller Beh È una legge proporzionale Dimmi che mappa è Io so già che mappa è però Eh, la mappa è una mappa veramente alternativa Eh, Newktown 2025 Sì, alternativa perché Newktown normale è da era di Black Ops Hai copiato? Eh sì, tutti quelli che fanno video in Black Ops 2 su Newktown del Milano e Cinque Io li ho copiati Sono triste per questo ma mi tocca Eh, la mappa era quella Insomma, sempre a far gruppo e a giocare su Newktown Effettivamente c'era il busato orbitale perenne in questa planetà perché usavamo i trucchi Non è vero C'era chi mi faceva C'è chi invece usa i trucchi, sono io Questo sfigato, tutti a segnalarlo Oggi entro online e lo vedo al sesto prestigio che non ha mai presiato in tutta la sua vita Non per dire, io sono arrivato con le mie forze Al 40, al 40 Al 7, allo 7 del secondo prestigio Ah, ecco No, nel primo prestigio Nel primo quello prestigio, ecco sì Perché non ha potuto tempo di giocare, perché sono scarso No, perché lui ostia ogni volta che gioca, allora spegne prima E lui mi trova al settimo prestigio E dico, ok Con più degli armi diamante e oro Siccome in questi giorni c'è gente al prestigio master, al decimo prestigio Che ovunque, perché non si sanno organizzare per barare due o quattro persone in closet Tu vai su, sulla lista giocatori Guardi quelli all'11 prestigio Li banni tutti, anche quelli che ce lo sono meritato Li banni tutti perché va a far cura Hai giocato troppo bambino Persona adulta e matura anche No, tu semplicemente vai sulla tua lista di amici E rosichi Adesso, facciamo una buona azione Tanto tu che ci ascolti avrai già fatto l'11 prestigio hackerandolo Ma vai sulla lista di tutti i tuoi amici e segnali tutti quelli che sono oltre il nono prestigio E segnaliamo Gianni che è stato qui a fare l'hack Eh sì Ciao Gianni, grazie Gianni Sì, Gianni è diventato un maestro hacker E fa gli hack per 5 euro Quindi se volete fare... I suoi metodi di partner No, ma se volete fare un regalo di Natale alternativo Oltre al solito Pandoro Regalate un 11esimo prestigio Ma sai che io odio il Pandoro? A me invece piace il Pandoro A me sa sul cazzo Il panettone invece gli fa tutti i candidi perché fanno cagare Ma anche un panettone, ma una torta al zacher Eh beh, è decisamente meglio Che è ovvio la zacher è la cosa più buona che esiste sulla faccia della terra di dolce Sapendolo cos'è la zacher Sapete cos'è la zacher? Ah, zacher Perchè sì, siamo in Trentino E comunque... E sì ce la tiriamo Penso che tutti lo sappiano Comunque è cioccolato, marmellata, cioccolato, cioccolato fuso Cioccolato È una torta al cioccolato Oh, cioccolato Ok, il gameplay è finito Sì, il gameplay è qua È lì È lì, però la telecamera è lì Quindi noi guardiamo un po' qui E un po' lì Quindi qua sotto I commenti E tanti mi piace I peli like Se no, se lo mettete il mi piace Ah, ok, spieganielo Va, andate su Facebook Su Facebook È serio? Su Facebook, eh? Questo L'ho comprato un anno e mezzo fa Non so se ho avendo un'idea Buon Natale, ragazzi E buon anno nuovo E facciamo i nostri migliori auguri A voi Alle vostre famiglie Alle vostre mamme No È brutta da dire Alle vostre sorelle E anche a voi, va bene Buon Natale da SpawnKiller E da Camper E da Scarso No, vabbè Oh, vabbè Vi stare all'inno Vabbè Vabbè Vabbè